Ciao a tutti, in questa video lezione video tutorial vi faccio vedere come partire da 5 immagini che ho scattato con la tecnica del live painting con varie luci, luci differenti tra una e l'altra per arrivare a creare un'immagine equilibrata come questa dove ci sono queste luci che si espandono intorno ai soggetti. E' una tecnica semplicissima, vi farò vedere come fare e spero ardentemente di non avere una sorpresa finale, quindi seguitemi fino in fondo per vedere che cosa mi combina Photoshop. Cominciamo con aprire le nostre 5 immagini in livelli di Photoshop. Le immagini come vedete sono diverse una dall'altra perché la posizione degli oggetti è sempre la stessa ma le luci sono completamente diverse. Facciamo strumenti, Photoshop e qui vedete carica file nei livelli di Photoshop. In questa versione qua, se guardate, c'è mezza traduzione in italiano come Elabora raccolta in Photoshop e altre in inglese. Purtroppo sono le sorprese che ci riserva Photoshop nell'ultimo periodo in cui il software non viene più curato come una volta. Apriamo, ecco le immagini che si stanno caricando in Photoshop, vedete che mi sta caricando i livelli, ecco qui tutte le immagini, a partire dalla prima che è molto luminosa, vedete, la seconda che ha delle zone chiare qui, però è scura qua, qui è ben equilibrata. Noi dobbiamo guardare ogni immagine e cercare di capire che cosa prendere da queste immagini. Qui abbiamo un'altra immagine dove abbiamo poca luce, ne abbiamo un po' qui, un po' qui, qui è molto scura, da questa non prenderemo molto. Poi andiamo, qui abbiamo una zona qua che mi sembra molto buona, qui i tre chicchi sono molto ben equilibrati, come qua invece abbiamo solo questo che è chiaro. E poi abbiamo l'ultima dove i chicchi sono tutti scuri e abbiamo molta luce qua, molta luce qui e qua molto bene evidenti questa zona dei chicchi del melograno. Allora, che cosa dobbiamo fare? Su ogni ognuno di queste immagini dovremmo andare a prendere il meglio, partendo ovviamente da questa che è quella sottostante che lui ci ha messo per ultima. Allora, andiamo a aprire un'altra immagine, questa immagine qui abbiamo detto che andavamo a prendere questa zona qua, i chicchi che sono ben illuminati e non prendiamo ad esempio questa zona qua che mi sembra un po' troppo luminosa. Però possiamo ad esempio prendere qua sotto che non c'è ombra sotto lo spicchio. Allora, cosa facciamo? Ci posizioniamo sul livello, con Alt premuto carichiamo un livello nero, vedete? Un livello nero. Che cosa vuol dire? Che andiamo ad annullare l'immagine che c'è. A questo punto, su questo livello nero, con un pennello bianco, andremo a fare un lavoro. Con Alt premuto e il tasto destro andiamo ad allargare la dimensione del pennello. Abbiamo detto che dell'immagine sottostante noi prendevamo questa parte qui, perché non aveva grandi ombre. Io ho un pennello al 33%, se mi sembra basso posso aumentarlo, se no posso fare più clic contemporaneamente per aumentare un pochettino le luci che mi servono. Ecco, qui ad esempio lo faccio più volte e anche qui perché così ottengo questi chicchi ben illuminati a posto. Poi qua ho detto che c'era questa parte che mi piaceva molto che volevo riprendere. Anche qui andiamo a riprendere la zona qua. Questa zona qui mi sembrava un po' troppo illuminata, quindi magari la prendo su un altro livello. Vediamo qua che cosa posso andare a togliere. Se voglio vedere che cosa c'è sotto, che com'è esattamente questo livello, premo il tasto B e clicco sulla maschera. Vedete? La maschera si annulla e quindi io vedo che questo livello qua, di questa zona qua, non posso prendere niente. Qui è un pochettino troppo luminoso, ma vanno molto bene i chicchi e questa parte qui. Quindi sempre col tasto maiuscolo Shift premuto, riattivo la maschera e quindi vado a prendere questa zona qua, guardate. Questa zona che mi interessa perché ho visto prima che era molto luminosa. Qui vedete non va bene, quindi CTRL Z e lascio com'era. Continuo a illuminare i chicchi in modo che siano illuminati al 100%, con un bianco al 100%. Guardate Alt, vedete che qui la zona dove ci sono i chicchi è bianca bianca, quindi vuol dire che ho preso tutta la luce che potevo prendere. Alt premuto, ripremo sulla maschera e torno alla visualizzazione del livello. Poi mettiamo il livello successivo. Qui abbiamo che si può prendere molto bene questa zona qua, la luce che c'è qui. Diamo ancora un po' di luce ai chicchi, in ogni caso, prendiamo quello che c'è su questo livello qui e andiamo a aumentare un pochettino. Ecco, andiamo a prendere questa luce qua, che mi sembra giusta. Allora, mi posiziono sul livello, Alt premuto e inserisco una nuova maschera. Di questo livello qua, magari alzo subito il pennello all'80% e vedete che vado a prendere, guardate, tutta la luminosità di questo livello. Vedete? Tutto quello che mi serve. Qua direi che andava bene come era prima, quindi CTRL Z, non tolgo niente. Qui vediamo se, no, forse è meglio come era prima perché sono più luminosi, mentre invece vado a dare un po' di luce, riducendo un pochettino la dimensione del mio pennello, vado a dare luce in questa zona qua. Vedete? Quindi ho preso delle luci che mi sembravano giuste. Qui ne ho tolta un po', ma secondo me sta meglio così. Allora, andiamo a vedere il livello successivo. Qui abbiamo un livello molto luminoso, quindi sappiamo che da qui possiamo prendere molta luce. Abbiamo qui una bella luce che possiamo utilizzare, qua questa ombraquea la lasciamo strare e qui l'abbiamo già presa in questa zona, quindi vediamo solo di prendere quello che ci serve. Allora, anche qui, mettendo la maschera nera, io annullo il livello e poi con l'alt premuto lo faccio, alto option, e poi cliccando con il pennello bianco, cioè lavorando col pennello bianco, io mi riprendo la luce di questo livello. Quindi, guardate, qui vado proprio a riprendermi la luce che c'era, che è molto bella. Qui sotto direi che forse è meglio quello che c'era prima, quindi con la X inverto lascio la luce che c'è. Qui lasciamo questa luce qui, guardate, qui ne recuperiamo ancora un po'. Qua, vedete, andiamo a recuperarne ancora un po', anche in questa zona qui, qui sopra, e anche qui, perché mi sembra che, no, contro Z, torno indietro, direi che qui va bene così. Vediamo un po' se qui, ecco, qui possiamo ancora utilizzare un po' di questa luce e qui anche, perché abbiamo questi chicchi molto chiari. Invece una cosa importante di questo livello è prendere, vedete, quella parte scura che lui ha. Se io vado con maiuscolo premuto, shift premuto, a vedere, vedete che in questa zona qua è tutto buio. Mentre invece se io rimetto la maschera, adesso l'ho già pennellato sopra, ma prima non era buio. Quindi vado a riprendermi il buio che è stato creato qui. Vado anche a riprendere delle parti di luminosità soltanto per avere un po' più di luce qua sotto. Qui vediamo, ecco, qui possiamo prendere questa luce qui e qui possiamo, ad esempio, eliminare tutta quella, la maggior parte della luce che c'è. Abbiamo questa zona nera che non è nera uniforme, cercheremo di toglierla. Qui lasciamo così, ecco, facciamo una cosa di questo tipo. Allora, ultimo livello, qui è decisamente bruciato, però c'è molto contrasto tra il davanti e il dietro. Quindi io direi di vedere se si può utilizzare ancora un pochettino di luce qua, magari con un pennello non al 100%. Quindi alta, rimetto la maschera nera, con un pennello al 50%. Vado a recuperare un po' di luce che sia più luminosa questa zona qui. Vedete qua, devo stare attenta perché c'era un livello in cui c'era un'ombra. Quindi inverto il pennello un attimo e lascio quello che c'è qui. Poi, di nuovo col pennello bianco, vado a prendere luce qui, vedete luce qui, cerco di dare lumisosità in maniera diciamo più dinamica ai miei frutti, a tutto quello che ho qui. Vediamo se riesco, ecco, a recuperare, magari sempre con un pennello grande, molto morbido e con un'opicità molto bassa, tipo un 40%, vado a vedere di recuperare ancora un po' di luce in questa zona qua del mio melograno. Vedete, anche qui, e direi che abbiamo ottenuto una bella immagine. C'è ancora una cosa che voglio fare e qui la farò mettendo un livello soprastante, quindi nuovo livello sopra, con un pennello nero. Devo utilizzare questo escamotage perché il computer, il software non è, in questo periodo non è per niente stabile, quindi non posso fare altre cose. Con un pennello nero o comunque di questo colore che trovo qui, vado a pennellare, vedete, vado a togliere queste parti. Che sono luminose e sono visibili all'interno dell'immagine. Faccio in modo che tutto quello che c'è dietro ai miei due melograni diventi una cosa uniforme e nera. Vedete, questo è un altro modo per fare questo lavoro. Anche qui c'è questa parte qua. Ecco, la mia immagine sarebbe finita. Dico sarebbe perché adesso dovrei andarla a salvare. E quindi andiamo a vedere di fare il salvataggio. Facciamo file, salvo con nome. La salvo con un nome che riprende una delle immagini che ci sono qui e poi faccio salva. Allora, ho salvato per sicurezza, perché ultimamente Photoshop mi crasha di continuo. Praticamente quando vado in salvataggio, anziché salvare, si ferma. E per poter riaprire il programma bisogna prima chiuderlo, non dal pulsantino qua in alto, dalla crocetta qua in alto, ma proprio andare con control al scancio a chiudere il software. E poi lo si può riaprire, ma riaprendolo negli ultimi aggiornamenti, quelli proprio più recenti, non mi recupero più i file su quali stavo lavorando. Quindi perdo tutto il lavoro. Ora che siamo arrivati qui, voglio soltanto farvi vedere alcune cose. Allora, qui abbiamo una bella immagine già a posto. Io magari cercherei ancora di dare un po' di luminosità a queste zone che non sono abbastanza luminose. E quindi, maiuscolo, control, alt, E, creo un nuovo livello soprastante. E su questo livello vado ad applicare, vediamo, proviamo così, vado ad applicare una curva. Questa curva illumino la maggior parte dell'immagine, però poi in realtà non vado a utilizzare tutta questa luce. Faccio control, backspace. Vedete che la mia maschera è diventata nera. Perché ho fatto control? Nei tutorial precedenti voi avrete visto che vi dicevo alt, backspace. Perché ho fatto control? Perché il nero era il colore di sfondo. Mentre invece se io uso alt, backspace, mi inserisce il colore di primo piano. Allora, in questo caso, io avevo appunto il nero come colore di sfondo, facendo control, backspace, command, backspace, sono riuscita a annullare questo livello che ho appena fatto. Ora, con un pennello piccolino e bianco, vedete, vado a prendere un pennello molto piccolo, con un'opacità abbastanza alta, perché poi al limite la riducco dopo. Vado a dare un pochettino di luce in certe zone dell'immagine, cercando di dare più vivacità a questi chicchi. Vedete, anche questo qui lo rendiamo un po' più chiaro. Poi qua possiamo creare una luce in questa zona, che, ecco, vedete, poi aumento un pochettino il pennello e vado, ecco, vedete. Poi possiamo anche creare un po' di luce che arriva dall'alto, anche qua dietro. E magari anche qui, vedete. Abbiamo la possibilità di gestire tutto come vogliamo, questa immagine, in questo modo. Quindi possiamo annullare certe zone che magari ci sembravano un po' scure. Anche qui vediamo di schiarire un pochettino, anche se non si riesce a farlo più di tanto. Queste ombre qui, perché sono veramente nere, quando sono scure così non si riesce ad aumentare più di tanto la luminosità. Però, vedete, vedete che abbiamo già creato delle zone abbastanza qui, contro Z, perché non mi piace. Faccio una cosa così e diminuisco l'opacità. Ecco, una cosa di questo genere. Ecco, direi che poi, come dico sempre, voi potete lavorarci quanto volete, perché ovviamente non avete la mia immagine. Quindi potete lavorare di più, di meno, a seconda di quello che volete tirare fuori. Diminuisco di nuovo l'opacità e tiro fuori anche un po' di luce da questi chicchi qui. Magari aumento di nuovo l'opacità al 100%. Ecco, perché la frutta e questi chicchi devono essere invitanti. Ecco, anche qui. Quindi diamo luce in spazi ben precisi, in zone che preferiamo illuminare e lasciamo scuro quello che non ci interessa. Vedete? Quindi stiamo dando una luminosità particolare. Anche qui togliamo un pochettino, anche se si può fare poco qua, perché quando sono scure così le ombre è difficile toglierle. Bene, adesso direi che posso risalvare l'immagine, sperando, faccio ancora un clic qua, sperando che Photoshop me lo lasci salvare. Non vi è mai capitato che chiamate il tecnico del computer per un problema e quando il tecnico arriva il problema non c'è più? Non succede più niente? Quindi vi ritrovate che dovete spiegarglielo, ma non è così semplice se non vi crea quel problema proprio quando il tecnico è presente. Beh, Photoshop mi ha fatto questo scherzo qui. Oggi che stavo registrando è arrivato alla fine della registrazione senza problemi e ho salvato. Mentre quando facevo le prove non sono mai riuscita a chiudere un'immagine e l'ho fatta per 3-4 volte di seguito. Non solo, ma il software dovevo chiuderlo con Control Alcance e quando lo riaprivo nell'ultima versione, nell'ultimo aggiornamento, non mi presenta neanche più una versione recuperata di quello che stavo facendo. Quindi mi ritrovo proprio a rifare il lavoro da capo. Oggi, mentre ero in registrazione, non ha fatto nulla. Adesso vado a salvare. Tra l'altro vi inviterei, se avete lo stesso problema, a scrivermelo nelle note, perché Photoshop venga a sapere di questi problemi. Perché io ho già scritto nei form, ho cercato di scrivere a loro, ma sono abbastanza inaccessibili. E quindi scrivendo nei form viene fuori che in tutto il mondo ci sono centinaia di persone che hanno lo stesso problema. Tanto è vero che l'Adobe continua a sfornare aggiornamenti che, dice, correggono dei bug. In realtà non correggono completamente questo problema. Ecco, adesso provo a fare semplicemente salva e vediamo se ci riesco o se si ferma il programma. Ecco, come dicevo prima, come quando non riesce a far vedere al tecnico il problema, anche in questo caso per ben due volte ha salvato. Si è risolto il problema? Non lo so. Io ieri ho aggiornato la scheda video, i driver, sperando che fosse quello. Mi auguro che d'ora in poi questo problema si sia risolto. Vi ringrazio comunque per avermi seguita. Mi fa molto piacere perché siete sempre più numerosi. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale. Tutte le settimane io pubblico un tutorial e questa volta pensavo di farvi la sorpresa finale. Invece Photoshop fortunatamente, quando sente che sto registrando, evita di fare scherzi. Comunque vedete, il salvataggio sta continuando. Per una volta sono arrivata alla fine. Grazie e alla prossima.